Stento ancora a crederci, un'altra gara gettata alle ortiche, un clamoroso errore da parte del team Ferrari che condanna anche questa volta Charles Leclerc fuori dal podio di casa. L'unica nota positiva per il monegasco è quella di aver terminato finalmente il suo GP bestia nera, che però ancora non gli regala la soddisfazione del podio davanti alla sua gente. In questo video team radio la reazione di un arrabbiatissimo Leclerc nel momento chiave, pit stop e finale di gara. No words Ai ai ai, la season è lunga, ma non possiamo farlo. Non possiamo farlo. Non possiamo farlo. Sì, dai. Lo sappiamo Sean. Adesso concentriamoci che ce ne sono tante e vedrai che ci rifaremo. Quindi vieni, vieni qua. Torni ad ora. Sì sì, sono sicuro che ci rifaremo. Ma dai. La casa fa male. Ok. E ricordatevi che hai fatto un buon lavoro, ok? Keep working hard. Sì, non potrei fare qualcosa di meglio, ma questo non mi fa sentire meglio per oggi. Sì. 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 Sì.